Quarta corsa, un doppio chilometro per cavalli di quattro anni. Non corrono il quattro con Cittapac se l'otto di Capital SM. Sul numero cinque Casablanca Nobel c'è Crescenzo Maione anziché Vincenzo Luongo. Allineamento che va pian piano ad ultimarsi. Sei in prima, tre in seconda, sono in nove. Cavalli che entrano qui davanti alle tribune e pronti per il lancio. Casablanca Nobel dall'esterno cerca di scavalcare i cavalli all'interno. C'è il galoppo del numero tre Calypso Staff. Rimiene subito il due di Cosirindal con Gaetano Di Nardo che cerca o un posto in corda o almeno di passare al comando su Casablanca. Vediamo le intenzioni di Crescenzo Maione. Sembrano quelle di voler mandare via all'allievo di Gaetano. Intanto se ne vanno i duecento in quindice e mezzo. Gaetano insiste su Casablanca che dopo quattocento metri gli concede strada in trenta e sei. È passato Cosirindal nei confronti di Casablanca Nobel. Andatura abbastanza spedita vista la categoria. In terza posizione vediamo Chantal RG con a largo Cevalotto. Cevalotto che si trascina all'allievo di Raffa Forino, Ciro Bix. Se ne sono andati in 47 e i seicento metri, 46 e mezzo. Ora cerca di gestire un po' il numero due di Cosirindal. Si avvicina Cevalotto all'esterno. Casablanca chiuso secondo alla corda. Si avvicina anche Ciro Bix. Cavalli qui davanti alle tribune con l'allievo di Gaetano Di Nardo e allenato da Massimo Di Muro che passa un chilometro in 1,16 e 1. Andatura abbastanza spumeggiante imposta da Cosirindal che contiene per il momento il 10 di Cevalotto. Di dentro vediamo il 5 di Casablanca, tre quarti miglio in 1,32 e mezzo con Cosir ancora leader nei confronti di Cevalotto. Casablanca, a largo Ciro Bix, di dentro Chantal e via via tutto il resto del gruppo con la terza ruota di Ciro Bix che sospinge Cevalotto sul leader. Ma il leader che fa ancora buona guardia al completamento della dritta di fronte all'imbocco dell'ultima curva con Cevalotto che insiste su Cosirindal. Sembra anche leggermente sopravanzare Giorginio all'allievo di Gaetano Di Nardo. Cevalotto che è passato su Cosirindal. Ciro Bix si entra in retta d'arrivo con Cevalotto leader nei confronti di Ciro Bix. A largo di tutti vediamo anche il 5 di Casablanca Nobel in retta d'arrivo. Ciro Bix va su Cevalotto, lo coglie leggermente in crisi e in prossimità del traguardo lo appariglia ma probabilmente non batte l'avversario. Per il terzo Casablanca Nobel. Io ho sul mio cronometro 2.33.8, una misura intorno all'1.16.9, una vittoria meritata per Cevalotto e Giorgio D'Alessandro Junior che in zona traguardo tengono a rispetto probabilmente il 6 di Ciro Bix. Sì, è sicuramente così. Mentre per il terzo arriva un po' in ritardo il 5 di Casablanca Nobel. Buona per la prossima. È tutto per la quarta corsa, linea alla regia.